Per la prima volta la Fruit Actration, che normalmente si realizza a Madrid, sbarca in Brasile e noi come Greenhouse Italia, impresa leader nella produzione di fertilizzanti e vie stimolanti, siamo qua con la nostra filiale Greenhouse do Brasil per essere vicini a tutti i produttori che quotidianamente accompagniamo. Per noi Greenhouse Italia è molto importante partecipare a questa fiera perché da 40 anni lavoriamo con colture di qualità e quindi frutta e ortaggi. Tutta la nostra linea di prodotti serve per migliorare la qualità delle produzioni, più colore, più zuccheri, più shelf life. Pertanto vi invitiamo a conoscere la nostra proposta di valore nella nostra pagina web dove ci sono le diverse sezioni portoghese, spagnolo, inglese e francese. Grazie!